ciao a tutti bentornati in un nuovo video video haul di acquisti spero mi vediate non volevo mettere troppo un vicino ho gli acquisti fatti un po' è un mini haul perché ultimamente non ho molte finanze e devo fare una regolazione allora ho acquistato da tigotano ci sono nata più volte e ho comprato diverse cose ok ho un pacchetto arrivato da amazon altro pacchetto arrivato da amazon e debora milano sono andato all'outlet qui vicino a casa mia ha abbrugnato e 5 terre e outlet mi sembra no shopping brugnato 5 terre ma shopping 5 terre brugnato e outlet una cosa del genere dalla debora c'è anche lo scontrino ho acquistato nella sezione quella scontata questo quad di ombrettini c'è uno panna uno di la molto chiaro uno di la più scura un viola la faccio vedere così il riflesso però il viola più scuro il viola più chiaro il color panna molto carino l'ho pagata un brugnato 3 euro 3 euro invece a 5 euro ho preso questo duo di blush e di questo quad di blush e illuminate molto carino questo è un blush molto più scuro che sicuramente rimarrà di più questo l'ho pagato 5 poi ho chiesto una sugar smalto perché avevo finito il mio quello della kiko spray e lei mi ha consigliato questo asciugasmalto rapido quick dry top coat che mi fa da top coat e vi asciuga lo smalto l'ho provato oggi solo che non ha mantenuto molto perché in un'unghia si è già speccato lo smalto però è questo qui e me l'ha messo a otto euro e trenta pensavo meno come questo poi mi è arrivato da amano ho ordinato su amazon la cartuccia per la stampante che ho trovato l'offerta non l'ho ancora aperta speriamo bene è volata via se la posso fare questa qui della inkjet cartridge l'ho pagata intorno ai 15 euro comprese le spese di spedizione 14 comprese le spese di spedizione compatibile con la mia che io ho una HP l'ho pagata intorno ai 15 euro la proverò e farò sapere se va bene o no perché io prendo sempre quelle originali dell'HP poi che sarebbe questo pacchettino qui sempre preso su amazon mi è arrivata questa bustina carina e sarebbe la cover del mio telefono l'ho già messo sul telefono ed è fantastica mi piace un sacco con i poffetti perfetti il masino avrebbe effetto anche con gli occhietti però con questo masino morbidoso mi piace troppo ha le sue orecchiette e copre tutto il telefono mi piace molto l'ho pagata 7-8 euro mi sembra compesa di spedizione ok c'è il termine sta caricando io l'ho presa per il mio che è un Huawei P20 Lite credo ci sia c'è anche un'altra versione tutta bellantinosa anche con gli occhietti era molto lena anche quella poi Deborah Amazon passiamo a Tigotà Tigotà ho preso ne avrò tante le salducche per gli animali per il mio cagnolino che non lo faccio vedere mai ecco lì devo farlo vedere e ho preso queste qui a un euro e tante sono formato 30x20 in casa solo se piove in viaggio rinfrescate le tiglie profumate della Amoregno carini con i cagnolini poi ho preso sempre a un euro qualcosa la Spiricare le tagliette quelle che sono gettabili nel WC c'era anche la confezione Pocket però io ho preferito il più grande visto che tengo per casa sono da 50 saldiettini sono gettabili nel WC perché sono biodegradabili biodegradabili ok mi faccio vedere se è interrotta la registrazione mi faccio vedere le Spiricare prese della Tigotà quelle salviette intime che si possono buttare nei WC da 50 tazzi a 8,95 ho ricomprato l'Aloe Criogel Cellulite dell'equilibra che al suo interno vi ho visto ieri sera c'è una mini taglia delle gambe leggeri gel che adoro quindi anche questa mini taglia da 18 ml e la confezione intera del Aloe Criogel Cellulite che mi piace molto infatti l'ho ricomprato a 8,95 poi a 9,90 ho preso della Melograno Bio Olio Viso Vitamina E e Melograna Bio c'è scritto Olio pure di Melograno biologico arricchito con Vitamina E edicamente profumato su un naturale contenuto di antossidanti lo rendo indottamente di bellezza ideale per la pelle di viso e collo e decolli l'ho preso proprio come anti-age e anche nickel tested e bio vediamo come si comporterà è da 30 ml poi a 1,99 euro ho preso due guanti per gli esfolianti io posso sostituire quello che ho in bagno sono due bianche negli anni che questi mi hanno sfruttati un sacco 3,20 euro e 3,20 euro shampoo shampoo capelli grassi con età di achilla biologica ecco bio della Ecos il mio shampoo preferito l'ho voluto ricomprare ne ho provati altri ma come questo nessuno mai e bastano per capelli con succo di aloe biologico sempre della Ecos ne ho provati altri basso come lui non ce n'è 3,21 euro da ticotà e niente questo era il mini haul durante il black friday ho fatto altri acquisti su amazon che mi devono arrivare a 21,99 euro registrando ok non sono ancora più buona a registrare comunque volevo far vedere l'ombrello questa è solo la scatola perché l'ombrello effettivo ce l'ha il fidanzato l'abbiamo preso su amazon a 21,99 euro lo chiamano ombra da golf però noi abbiamo preso quella della omache che il suo diametro o il suo raggio non ricordo è 1,57 euro ce n'è anche uno più grande da 1,72 euro noi abbiamo preso quella da 2,3 persone quella più grande è 1,72 euro da 3,4 persone ma è veramente gigante vedete ve lo farò vedere questo come buttare la scatola vi lascerò al video ciao ciao comunque lasciate un like un commentino con cosa avete comprato voi in questo periodo iscrivetevi al canale per supportare questo canale comunque io vi mando un grande bacio iscrivetevi al canale per supportare questo canale e seguitemi sui social finché ci sono ovviamente e niente vi mando un ennesimo grosso bacio vi ringrazio a tutti gli iscritti vi ringrazio tantissimo e niente ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao